gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi mercoledì 13 dicembre 2023 la repubblica meloni attacco a draghi la premier contro lo statista che l'europa rimpiange si faceva le foto con macron e scherz ma a casa non portava nulla l'avvertimento non venderò l'italia sul patto di stabilità e sul mess accusa conte trattò con il favore delle tenebre manovra la maggioranza si spacca sulla proroga del super bonus e poi il commento una donna sola al comando e poi andiamo adesso a vedere la stampa che titola oggi la scelta di anna primo suicidio assistito di stato l'asl di trieste al fianco della donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla il messaggio ora sono libera il diritto di dire basta una sofferenza inutile il direttore sanitario dice senza regole è dura e in assenza di una legge si arriverà all'eutanasia il racconto i nostri giovani fragili e gli errori degli adulti in una comunità ormai incapace di educare pd e draghi l'attacco di meloni il discorso prima del consiglio dell'unione europea non intese impraticabili super bonus scontro giorgetti forza italia in europa non si sta con le foto e parlando con pochi poi precisa nessun problema con l'ex premier e poi capitano mio capitano elogio del chielinismo si ritira giorgio chiellini bandiera della juve e della nazionale e poi vediamo perché masca da treio seppellisce tolkien il commento e adesso andiamo a vedere il libero quotidiano che titola oggi premier col botto meloni antifascista giorgia tutto campo super bonus super buffi non buttiamo soldi sinistra contro l'italia conte disse sì al mess col favore delle tenebre masca accetta l'invito alla festa di fratelli italia ci sarà anche lui e poi vediamo addio voto se mi triplichi lo stipensio democrazia svendesi di pietro senaldi e poi il giallo di grillo dopo il malore resta ricoverato per tre giorni e poi a trieste la prima volta adesso il suicidio assistito ora si fa a domicilio e poi non ha regole e non teme dio l'illusione di limitare l'intelligenza artificiale andiamo adesso a vedere il giornale che titola case occupate svolta schiaffo agli irregolari per la prima volta salta la tassa sugli alloggi sottratti ai proprietari scontro nel governo sul super bonus e poi vediamo ong sotto accusa casarini un bonifico per il falso naufragio e poi verso il consiglio europeo meloni affronta bruxelles e poi incidente su draghi le polemiche sul fine vita anna il primo suicidio pagato coi soldi della asl e poi chi è mister x di atreu e proprio elon musk e il business di genere da milano a napoli un fiume di denaro per i corsi lgbt e poi vediamo il fatto quotidiano che titola cyber gasparri si inventa scuse la destra ci crede senatore incompatibile e poi super bonus prima tutti contro ora lo rivogliono altro che truffa forza italia fratelli italia lega per la proroga meloni e giorgetti fanno muro la manovra a capodanno voto dopo natale la premier ingoia emendamenti e si scusa tagliani c'è il mille proroghe e nordio vara un codice contro del mastro non divulgare segreti per scopi privati linee guida del ministro della giustizia andiamo adesso a vedere la verità che titola il pd ha passato alla banda di casarini notizie riservate della guardia costiera l'inchiesta sul traffico di clandestini continua a regalare sorprese in chat intenso scambio di messaggi sulle ricerche nel mediterraneo con l'ex presidente orfini l'ex ministro dei micheli la deputata pini altri esponenti dem e in almeno un caso alla mare ionio viene girato un resoconto del comando delle capitanerie di porto e poi da augas a serra la carica catodica dei guru d'opposizione senza opposizione meloni in aula fa pezzi sinistra e conte l'avvocato diede il via libera al mess un giorno dopo essersi dimesso senza mandato col favore delle tenebre i dem si esaltano per le foto di draghi ma la politica estera non si fa con le immagini patto trattativa aperta e poi vediamo gli scioperi a casaccio di landini i sindacati scoprono l'euro austerità e la trattano come fosse l'artrite di paolo del debbio e poi vediamo anche l'articolo di maurizio belpietro i compagni si indignano solo per del mastro e poi il servizio sanitario affonda però paga i suicidi triestina di 55 anni per è la prima ad aver ricevuto il farmaco per togliersi la vita andiamo a vedere adesso il tempo che titola oggi conte sciagura dei conti catastrofe grillina meloni in parlamento prima del consiglio europeo elenca i disastri 5 stelle super bonus regalo più grande mai fatto ai truffatori e bande di criminali a fondo sulle modifiche al messe l'ex premier diede l'ok con il favore delle tenebre e poi la festa di fratelli d'italia parte domani elon musk ospite superstar di atreio e dice c'è sta air parcheggio per i razzi a castel sant'angelo vabbè non fa ridere però ridiamo lo stesso e poi vediamo bilanci asl ecco i nomi degli indagati nell'inchiesta sui resoconti i direttori di roma 5 poloni clinico tor vergata andiamo adesso a vedere il messaggero super bonus l'ultima trattativa e adesso andiamo a vedere il sole 24 ore che titola per la crescita mancano 40 decreti e meloni vede spiragli sul patto di stabilità e adesso vediamo se è pronto il corriere della sera no purtroppo è ancora quello di ieri grazie a tutti e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e grazie